Eccoci bentornati su GoGames, siamo nel DLC di Elder Ring e in questo video andremo a recuperare per prima cosa questa chiave qui, chiave della spada magica, l'andremo a prendere, ve la mostro perché l'ho già raccolta, per cui vi mostrerò il luogo dove si trova la cesta contenente questa chiave, ma ovviamente la cesta sarà già aperta, voi dovrete aprirla e prendere la chiave. Dopodiché ci sposteremo e andremo a prendere un amuleto molto molto utile per cui partiamo, ci troviamo esattamente qui nella camera del signore del castello che è l'anticamera del boss Rellana, vedete qui a destra si batte il boss e da qui possiamo andare a prendere la chiave appunto che vi ho mostrato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.